Credo che oggi la partita del Napoli possa riassumersi in due semplici parole Arkadius Milik ragazzi Gol nel primo tempo, assist nel secondo tempo per Fabian Ruiz che la butta dentro E attualmente è in Napoli che si è praticamente qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo Hi, this is Gaboman, mi piace parlare inglese una volta ogni tanto YouTube è una cosa di quelle 200k, una cosa del genere Siamo tornati con questo nuovo video per dirvi appunto che il Napoli se la giocherà col Milan ai quarti di finale Però visto che in tanti me lo state chiedendo, se non ricordo male Devono sorteggiare quello che sarà il campo in cui si giocherà il quarto di finale E sto andando, però mi pare che sia così Quindi Napoli-Milan o anche Milan-Napoli, non so quello che potrebbe accadere Fatto sta che oggi il Napoli ha fatto una bella partita come al solito C'ho paura per Arkadius Milik perché io ce l'ho al fantacalcio Non vorrei che ha sparato tutte le cartucce qui E qui ragazzi c'è stata una parata su Locatelli da parte di Ospina Gran bella parata Ogni tanto mezzo un po' la connessione però qualche cosina la vedo Voglio tornare un attimo sul gol annullato al Sassuolo di Locatelli Col Val Review, a mio parere è giusto annullarlo perché riguardandolo attentamente La palla prima gli va sulla spalla e poi però gli scende un po' sul braccio Diciamo che secondo me dipende anche molto dall'arbitro Ci sono alcuni che tendono a non fischiare queste situazioni Altri invece scusate che tendono appunto a considerarli falli di mano È una cosa abbastanza soggettiva anche se non dovrebbe essere così Però insomma secondo me è stato giusto che lo abbiano annullato Milik comunque che secondo me attualmente è l'attaccante più in forma del Napoli Senza ombra di dubbio Sta dimostrando che se continua così nel girone di ritorno E non me la vorrei gufare meglio che non dico niente Che cosa vogliamo aggiungere? La partita col Milan sarà tosta a mio parere Soprattutto se si giocherà a San Siro Perché il Milan ragazzi è una squadra che non bisogna assolutamente sottovalutare E poi non dimentichiamoci che è il passato, la vita di Carletto Ancelotti Poi che cos'altro vi voglio dire? Ma non credo ci sia altro da aggiungere Dell'intervento al VAR ne ho parlato Del gol di Milik da Cecchino Che alla fine raccoglie in rete un cioccolatino non mi ricordo di chi Oggi mi hanno convinto tutti i giocatori del Napoli Non c'è stato nessuno che mi ha sorpreso in negativo Coulibaly come al solito è una certezza barra garanzia Ha salvato in un paio di occasioni proprio la porta del Napoli E niente comunque Il Sassuolo a me è piaciuto A me sinceramente è piaciuto Berardi qualche occasione se l'è ritagliata La differenza in classifica dovrebbe essere abbastanza importante Tra Napoli e Sassuolo Ma alla fine andando a guardare al netto Secondo me comunque il Sassuolo qualcosa ha provato sicuramente a fare Lasciate un bel mi piace su questo video Arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio Vi ricordo che oggi ho fatto anche il post partita Dell'Inter contro il Benevento Ma non solo perché ho fatto anche Tottenham Manchester United Una partita veramente bellissima Con miracoli da una parte e dall'altra Ma soprattutto dalla parte del Manchester United Che altra partita ho fatto oggi a Torino-Fiorentina Quindi se vi va andate a spulciarvi Magari post partita che vi interessano e che non avete visto Mi piace, commentate, condividete Iscrivetevi al mio canale appunto Ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti Un video ce l'ho già pronto col buon Fabio Abbiamo parlato di un'indiscrezione di calciomercato Abbastanza pazzesca qualora venisse confermata E poi domani sera ovviamente ragazzi c'è Roma-Virtus-Entella Quindi faremo il post partita Poi la live reaction ve la pubblicherò il martedì Attenzione che insegna col suo classico tiro a giro A momenti la butta dentro Ma comunque un calcio di punizione che ha battuto nel secondo tempo Ci è mancato poco che entrasse in rete Ha dato l'impressione del gol Però non era assolutamente gol Per me... Scusa oggi sono troppo stanco Non c'è più a parlare Per me comunque vittoria meritata Da parte del Napoli Senza dubbio Ciao ragazzi Buonanotte Ma da dormire perché non c'è No c'è più a parlare